Ministro dell'Interno, Vice Premier, Leader della Lega, come sta? Bene, ho un po' di voce in meno, qualche chilo in meno, un po' di ora di sonno in arretrato, ma tanta gioia e tanta responsabilità per la fiducia che gli italiani mi hanno dato di cambiare quest'Italia e quest'Europa. Quindi li ringrazio uno per uno, sono tanti perché sono 9 milioni, però li ringrazio se ci stanno guardando da casa. Come mai ha un po' di voce in meno? Eh perché non mi fermo, non mi fermo, ieri ero ad Ascoli, sono andato alla caserma dei Carabinieri perché ieri era il compleanno dei Carabinieri, 205 anni dalla fondazione, ne approfitto perché stanotte il bello, poi entriamo nel merito della politica ovviamente, però il bello delle forze dell'ordine e della sicurezza in Italia è che io mi sveglio la mattina con i messaggi del capo della polizia, del comandante dei Carabinieri, stanotte decine di arresti in tutta Italia, da Foggia a Prato, a Milano, a Roma, spacciatori di droga, mafiosi, camorristi, trafficanti di esseri umani, quindi abbiamo le forze dell'ordine migliori al mondo e io sono onorato di essere al loro servizio. Sì, ieri l'abbiamo letto, tra l'altro il suo messaggio, c'era il report delle forze dell'ordine, però c'era anche un report importante, la sua figlia ha perso un dentino, giusto? Andiamo avanti. Ma, senta, no, una curiosità, ma la fatina arriva a sua figlia? Sì, è arrivata, è arrivata la fatina del dentino, anche se è il terzo o quarto dentino che cade, quindi dovremo spiegare, la mamma prima o poi spiegherà che al dodicesimo dentino che cade non arriva più la fatina, però per intanto la fatina continua ad arrivare. Però diventa un business, insomma. Ma senta, se faccio bene, ma è arrivata con una post a pay, tipo il reddito di cittadinanza, oppure è arrivata con una monetina? No, all'antica, sotto il cuscino, non usiamo queste diavolerie moderne, sotto il cuscino la monetina. Ha fatto più. La fatina arriva di notte e lascia la monetina sotto il cuscino. Poi arriva a Moscovici di giorno e gliela riprende. Appunto, bravo, lei ha spiegato esattamente la favola dell'Italia e dell'Unione Europea, partendo dalla fatina e dal dentino, più o meno i termini sono questi. No, allora, ecco, questa è la sua bambina di spalle ovviamente, ce la saluterà. Senta, no, vengo serio, perché al di là di tutto, effettivamente, cosa succede con l'Europa? L'Europa ci ha scritto e ci ha mandato delle raccomandazioni, poi c'è stata la risposta di Tria, adesso l'Europa dice che sarebbe giustificabile una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per eccessivo debito. Quindi dobbiamo ridurre le spese, dobbiamo alzare le tasse, dobbiamo rimettere a posto i conti? Ma guardi, provo a spiegare in 20 secondi il mio punto di vista. Allora, le regole imposte dall'Europa negli ultimi dieci anni, mi limito solo agli ultimi dieci anni, tagli, austerità, precarietà, non assumere i medici, chiudi l'ospedale, metti la legge Fornero, tassa i conti correnti, aumenta l'IVA, risultato il debito è aumentato di 650 miliardi di euro ed è aumentata anche la disoccupazione. In Italia siamo al 10%, quando la media europea è del 6%. Quindi noi cosa vogliamo fare su mandato degli italiani? Il contrario, invece di tagliare e precarizzare, rimettere soldi nell'economia italiana, nelle tasche degli italiani. Sentivo che prima di me c'era il dibattito sugli imprenditori. Noi vogliamo fare quello che sta facendo Trump negli Stati Uniti, abbassare le tasse su imprenditori, lavoratori e famiglie, perché è l'unico modo per far correre l'economia italiana. E quindi noi a questo puntiamo e di questo ragioneremo con la Commissione europea, che ci imporrebbe nuove tasse, ma figurati, è come se a un malato che sta guarendo, invece delle vitamine uno volesse dare due schiaffoni. Non è possibile. Anche perché, ricordo a chi ci guarda, che noi non chiediamo i soldi degli altri. Cioè noi non andiamo in Europa a chiedere i soldi dei francesi, dei tedeschi, degli spagnoli o degli svedesi per pagare il nostro debito. Vogliamo semplicemente usare per gli italiani, come taglio delle tasse, i soldi pagati dagli italiani per ridurre il debito. E quindi io non farò parte di nessun governo che aumenterà di un centesimo nessuna tassa. Nessun aumento dell'IVA, tasse sulla casa. E la legge Fornero, non solo andiamo avanti a smontarla, ma l'obiettivo è quota 41. Perché dopo 41 anni di fabbrica, di ospedale, di scuola, di negozio, la pensione è un sacrosanto diritto acquisito. Allora, lei dice, io all'Europa non chiedo i soldi dei tedeschi, no? No. Però chiede soldi che l'Italia ancora non ha. Cioè chiede i soldi delle future generazioni, perché il debito è quello che rimarrà alle future generazioni. E io le faccio solo questa osservazione. L'idea di ridurre il debito facendo altro debito, non c'è un caso al mondo che abbia funzionato. Ma guardi, io ho due figli. Secondo lei io sto lavorando per lasciare più debito ai miei figli? E più precarietà ai miei figli? No. Molto semplicemente, le ricette adottate negli ultimi 15 anni non hanno funzionato. Hanno aumentato sia il debito che la disoccupazione. Il debito lo ripagano gli italiani se lavorano. Se gli italiani lavorano, fanno la spesa e pagano le tasse. Se gli italiani non lavorano o cercano un lavoro, magari alle 9 e mezza di un giovedì mattina sono davanti a mattino 5 perché hanno mandato 38 curriculum ma nessuno gli ha ancora risposto. Quindi l'unico modo per aiutare i nostri ragazzi è abbassare le tasse alle imprese e far ripartire il lavoro. Investire strade, autostrade, porti, aeroporti, scuole e ospedali. E io spero che l'Europa ce lo faccia fare perché è buonsenso che i nostri ragazzi lavorino. Ecco, io ho questa sensazione, poi magari mi sbaglierò. L'Europa sarebbe stata molto più elastica se lei fosse andato subito a dire io abbasso le tasse anziché fare per esempio quota 100 che comunque alza i costi per le future generazioni. Ha richiesto ai pensionati da giugno di mettere una piccola parte della loro pensione. Ecco, forse quello che l'Europa rimprovera a questo governo è per esempio una misura come quella. No, quella è una misura di equità sociale perché la legge Fornero era una legge iniqua che aveva derubato dalla notte alla mattina di anni di vita e di sacrifici milioni di italiani. E soprattutto con quota 100 cominceranno a lavorare stabilmente tanti giovani che altrimenti avrebbero dovuto scappare dall'Italia. Quindi superare la legge Fornero e tornare in una media europea è il minimo. Adesso bisogna investire in infrastrutture e abbassamento delle tasse. I soldi ci sono perché se gli italiani lavorano ma lo ripagano due volte il debito io voglio mettere al centro il numerino della disoccupazione non gli altri numerini. Noi siamo al 10%. Fino a che non torneremo a un livello di media europea che è quello del 6% abbiamo il diritto di investire in giovani, in sanità, in strade, in scuola e in futuro. Perché dice per esempio con quota 100 gli italiani lavorano? Se lei manda un 62enne in pensione in molti lavori io penso che a 62 anni si possa ancora lavorare magari non in tutti ovviamente però per esempio fare giornalista a 62 anni lo può fare lo manda in pensione se va bene si prende un giovane ma non è detto e quindi non è detto che gli italiani lavorino di più tra l'altro mandarlo in pensione è un costo è un costo è un costo perché non lo paga lo paga anche lo Stato e quindi lo pagherà quel giovane che dovrà pagare più tasca Molte imprese sono contente perché al posto di un collaboratore 65enne magari molto bravo però ovviamente stanco con la schiena a pezzi riescono ad assumere uno se non due ragazzi che costano di meno come stipendio o come contributi che sono evidentemente più operativi ed efficienti ci sono tanti casi di fabbriche io ne ricordo uno in Sardegna a Portovesme magari mandateci le vostre telecamere 150 operai andranno in pensione quest'anno e 100 giovani operai cominceranno a lavorare quest'anno quindi lo Stato ci guadagna e soprattutto ci guadagna la qualità della vita degli italiani però non ho capito 150 vanno in pensione e 100 arrivano quindi abbiamo perso 50 posti di lavoro beh però ci sono 250 persone che possono fare la spesa ci sono 250 persone fra i pensionati e i nuovi lavoratori che possono fare la spesa e pagarmi le tasse e quindi lo Stato ci guadagna e soprattutto ci guadagnano in qualità della vita quei soldi lì arrivano dallo Stato perché non è che li abbiamo inventati cioè non riesco a capire se 100 arrivano a lavorare e guadagnano anche un po' meno 150 vanno in pensione con una parte di pensione che è quella che si sono pagati loro ci sono i contributi ma una parte sono contributi loro ragazzi però una buona parte invece con quelli che paghiamo noi io mi ribello a questa visione meramente finanziaria che non contempla che ci stiamo parlando di donne e di uomini se uno versa per 40 anni contributi che sono suoi sono soldi di quegli operai di quei lavoratori di quegli agricoltori di quei commercianti sarà il suo sacrosanto diritto riprenderseli prima di essere sotto due metri di terra e godersi qualche anno di famiglia e di nipotini e di vita oppure per risparmiare cancelliamo i pensionati dalla faccia della terra così lo Stato risparmia però secondo me penso che sarà d'accordo secondo me la regola dovrebbe essere tanto hai versato certo tanto prendi perché invece un pensionato a 62 anni il passaggio contributivo è questo prende di più di quello che ha versato e glielo pago io che sono più giovane glielo paga il pensionato con la minima che ha bisogno di più aiuto glielo paga il disoccupato che non trova lavoro perché il costo del lavoro è molto alto perché paghiamo pensionati che prendono più di quello che hanno versato questo vado a chiederlo a chi ha governato 10, 20, 30, 40 anni fa io sono qua da un anno e voglio risistemare i problemi creati da qualcun altro adesso il sistema è quello vai in pensione e prendi quello che hai avuto però io non voglio che gli italiani muoiano di vincoli io voglio un paese che torni a sorridere a correre a investire a spendere bene